Un saluto dal Tg della mobilità, sono in servizio le linee mare, la linea 07 tra la stazione Colombo e Torvajanica Camposcolano è attiva tutti i giorni ed è potenziata nei giorni feriali. Nei festivi prima e ultima partenza da Colombo alle 7.40 e alle 21.30, prima e ultima partenza da Via Litorane alle 8.10 e alle 22. Nei feriali prima e ultima partenza da Colombo sono alle 6.30 e alle 21.30, prima e ultima da Via Litorane alle 7.05 e alle 22. Per viaggiare sulla 07 anche all'interno del comune di Pomezia sono validi i normali titoli di viaggio, validi a Roma. Torna anche la linea 062 che collega il porto di Ostia a Castelporziano, confermate alle stazioni Lidocentro e Colombo. La linea è attiva tutti i giorni feriali e festivi. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.